Quel momento non se n'è mai andato. Era il 18 giugno del 1962. Cleopatra termina le riprese a Ischia. È l'ultima occasione per la pistola fumante. I fotografi delle grandi agenzie affollano il molo. Per me è inutile restare sul set. Li avrei aspettati a rientro in albergo. E poi eccolo il motoscafo che rientra a tutta velocità. Faccio i gradini 4 a 4, sfondo la porta della terrazza e aspetto. Tenerezze, occhiate furtive. E poi eccolo. Il bacio tra Antonio e Cleopatra. Vero, vicino. Senza saperlo stiamo per far partire una tempesta. Ma una cosa però l'avevo capita. Da solo io, Marcello Geppetti, fotografo libero. Avevo battuto tutte le grandi agenzie e scattato una delle foto più iconiche della storia della fotografia.